Buine domenie, che l'amor, la pazza e la fede dal Signore entri in te vostre chiasi, tra vostri cur e cresti. Il Vangeli all'Eckel di Lucche. In che volte Gesù gli ha detto ai farisei, «Ali era un uomo, Signore, all'Eveator visto di purpure e di fil di lì, e al faceve fiesti in sogni di alla grande. Un puore che aveva non Lazzar si sentava sulla sua porta a cercare la carità, «Dot fodrà di place, se ne os di sguardo alla fanque i vansums che colava in le tavole del Signore. Parfini i chians avvenivano alle caglie di place. E' capitato che alle morte il puore e gli agni lo hanno portato al Grim di Abram. Più in davanti alle morte anche il Signore, e lo hanno portato al Grim di Abram. «Fì, non pensi che la tua vita è tutta la tua parte di ben con la qualche Lazzar ha l'addome penato. Come però, lui è reconsolato e invece tu, tu sei strumentato. In più, fra noi e voi altri, c'è un grande abisso. Se qualcuno di noi avvesse di passare lì di voi altri, non lo può farlo. E così anche nessuno di voi altri non lo può venire finché di noi. Che l'altro ha detto? Allora, pari, ti prei di mandarlo in casa di mio pari. «O hai cinque fratelli e ho voluto che io cridassi di non venire anche loro in questo luogo di tormento». E Abram gli ha risponduto «Hanno Mosè e i profeti che io ascoltano». E che l'altro gli ha replicato «No, pari Abram, se qualcuno di noi muore salverà di loro, cambieranno vite». E disse Abram «Se non è che di ascoltare Mosè e i profeti, non si la saranno convincere. Anche se uno ha risuscitato dei morti». Poi bene, a sta affevolando i farisei, è all'agosto, ecco, che loro acquistino i voi di Dio, talchialà, in che smontano le robie, come che le sviote Dio. Poi bene, a lì era un uomo siore, ha detto che l'unica qualifica è che a lì era siore. Oddio, non si dice che a lì era siore perché che aveva imbrogato, che fosse disonesto. era siore, visto di purpura, l'unica che aveva il commento in mano, perché era il colore dei reschi, e aveva fiestini alla grande, al dischi. All'unica, le due apparenze, hai capito? Si vio dal vestito, si vio dal 10 giorni, e le due apparenze è dentro di sé, ha il vuoi ciondare, che a lì era innamorata, ha il mangiato. E c'era Anna che aveva sposato con la divisa, e mi pensi che mi ha detto che mi ero innamorata di divisa, ma dentro non c'era proprio tenue. E anche quel che, a lì era innamorata, ha il mangiato. A lì era innamorata, ha il mangiato. E' un po' che vuoi dire a fietti che partissero a casa, probabilmente. E dopo sono stati in America, ho visto di più che c'è tanti di loro adolescente, grossi, che non passano neanche per le porte. Ecco, era un po' che aveva non lazzare, se si pensai se il Signore, non la non, allora dove il Signore è visto di purpura, che ha investito la non lazzare. Quindi lui, secondo i farisei, il Signore era un benedetto di Dio, perché Dio, con la fortuna in cui smontano, premiava i brassi e i boings, lazzare può arrivare alle plenze place, secondo i farisei, che il Signore aveva fatto per chi ha, e quindi gli è restato, chi ha stiato, e lui era sulla porta del Signore, a cercare la carità, e lui mangiava e si calcolava delle tavole del Signore, quindi lui aveva gli splice, di conseguenza gli era impuri, e gli eslecava il tian, che è l'animale impur anche quel. Insomma, il Signore, secondo i farisei, assolutamente non aveva di tirare dentro l'azzare, perché sarebbe diventato impur anche lui, che l'era stato premiato di Dio. Poi bene, allora, al succedere, vediamo che al succedere, non è succeduto nulla, è succeduto che il fosse alcalare fra i due, assolutamente non è stato impurato la misericordia del Signore verso il cuore, e allora, di conseguenza, qualche è vanno là di là, è resta in dividere. Però, che il benedizio, ecco, il modificio degli esercizi, della bandera di Dio, è il contrario di ciò che vedevano i farisei. Lui è ben punito, è ben punito, e questa situazione di povertà, di sofferenza, si vede finalmente che l'esiste, propria del puore, perché che quando si diventano puore, si riconosce i puore, se avete fatto caso, quando avete avuto una malattia, la contai, sette ore, o vedete che, o che la contai, il suo cuore, eccetera, ha avuto le stesse malattie. Ecco, quando si vengono puore, si attacchano le relazioni con chi altro, se il Signore ha letto al Cicchiel, di socio retato, tu capito, non ha bisogno di chi altro, se lui ha rispondo, ha bisogno proprio di Lazzar. e come andiamo come caliere di vif, gli dice a Abram, manda Lazzar, a mettere il DT anche, che ha fatto colare un negozio sulla melengue. Ha, il comando è proprio, ha l'arrestato, egoista l'arrestato, perché un che pensa, dove è a se stesso, ha il resto è frutto, non è madre. e che l'altro dice, no, no, non è possibile, perché che il fossile, che è stato dividuto là di là, è restato anche qua di qua. Allora, che l'altro dice, ma va, dice che va di a casa e me, a avvisare i miei fratelli, in modo che anche che non vedano il mio destino, e che vedano che si viace un po', dicono, a chi altri, rischi sior, però, ecco, ha il primo che ha detto prima i nostri, di fatti, lui ha pensato in nome ai suoi fratelli, ha la di salvare i suoi fratelli, ecco, dice a Lazzar, che va di proprio te la, e ha il viso, ha le preoccupate, e che l'altro gli dice, bellissima la risposta di Abram, e di, noi è di fa, e ha già Mosè e i profeti, se che credono, alla peraula di Dio, che credono alla peraula, se non vogliono indrezzarsi, in te vite che stanno facendo, e ma, se il risuscito e dai morti sono, e crederanno, non vale le apparizioni, parve fede, e va alla peraula di Dio, che ti fa riconosci, la vera strada di vita, po' bene, allora, questo, togto i Vangeli, ho potuto leggere, a livello global, e ho saputo qui che sono i suoi, e qui che sono i puoi, no, ma, tant bene che mai, non ho convinto, anche che fassi esempi, ho potuto leggere, anche a livello di paese, sì, tant bene che mai, perché i suoi e i laggi, sono anche dei nostri paesi, ho potuto leggere, anche a livello di comunità cristiana, dentro il tal paese, ho potuto leggere, anche a livello di famiglia, in ogni famiglia, alle Lazare, in ogni famiglia, al Signore, ho potuto leggere, anche fra ombre e femmine, dentro le famiglie, a seconda dei momenti, magari, ma il rapporto, al che dal Signore, è di Lazare, e come ho fatto una preghiera, con le in, queste benedette parole di Dio, le le in dentro di noi, insieme, tal non dal pari, dal figlio e dal Spirito Santo, Amen, Signore, no, ho sin, che è l'eccale, il Signore, è Lazare, ho sin, per fuori, il Signore, debba le figure, di fare davanti, che altri, ma dentro, in noi, rimbombe, quel vuoi, di umanità, di rapport, che il consumismo, che nos consume, non arriva mai, agli empli, e ho sin, anche Lazare, lo vengono ad via, con tutta, un po' per ore, perché la nostra parte, di Sior, non vuole, né vedilo, né che si vedilo, ma tu, Signore, tu as do, la nostra Lazare, la nostra parte, più vera, fa che la nostra Sior, si sbassi, o sbassilo tu, in modo che i due, sitiati, colmato, che vengono il fosal, che io divido, dentro di noi, o saremo, anche, più umani, per visarsi, di quel Lazare, pleno di plai, che è, al nostro mondo, e per cercare, di colmato, anche il fosal, che nos divido, di quel, Amen. Ciao di Dio, l'augurio, prendi tutto, alle di partì, dalla scuviargi, la parte più vera, la più vera, è che, che forse, non si piace di manco, perché, che ti gano in su, la faccia, ma, ce volevo, al rimbomba, il wait, da urdi, che faccia, perché, che, o po' di niente, in plan, nome, che appassi, la parte vera, pari, essi, noi stessi, davanti, noi stessi, e davanti, di che altri, che il Signore, alcun che, sorridut, che parte, lì di noi. Buine domenie e mandi.